...per ricordare loro i nostri 8 vici di crisi, praticamente scomparsi, ma che siamo sicuri stanno contemplando la bellezza di questa manifestazione sorridendo dall'alto del cielo. Grazie a tutti coloro che anche quest'anno hanno colorato di allegria la nostra festezione della pedalata per la sicurezza. Dove si va adesso? Dove si va? Grazie a tutti!